Se guardiamo alla poetica e alla cultura, allora richiamiamo il confronto con il tipo di poesia che prevale in quegli anni, l'estetismo di D'Annunzio, la fase dell'estetismo, ma l'estetismo intende per noi il modello di Alcione, in cui il poeta all'interno delle laudi dà corpo a questa raccolta in cui la tregua del superuomo gli dà modo di sondare in modo eccezionale il contatto con la natura, non ricorderete il panismo come termine di riferimento. Questo è un modello di quegli anni, un altro modello sicuramente rappresentato dall'esperienza di rottura delle avanguardie e dalla ricerca della parola assoluta. Abbiamo detto ieri che Ungaretti rappresenta un modello per gli ermetici, per chi pratica un tipo di poesia la cui cifra è l'oscurità. Ecco, invece all'opposto, la poesia di Saba è una poesia onesta che si configura come chiara, chiara proprio perché insiste su delle immagini, delle situazioni che sono immediatamente comprensibili, che non impongono uno sforzo di decifrazione. Una poesia autentica e onesta, la schiettezza della verità e la volontà dunque di esprimere in termini semplici il mondo interiore. Ribadisco il concetto di onestà e di sincerità. La poesia che va nel fondo, si diceva l'immagine dello scandaglio, e, insisto ancora, riprendo il discorso del collegamento con la tradizione lirica italiana a cui accenna già la scelta del titolo. Il linguaggio che Saba utilizza risente fortemente della tradizione letteraria italiana, della tradizione lirica, ma anche addirittura di altre forme di arte, come per esempio il melodramma. In genere, quello che caratterizza i testi sono appunto la compresenza, cioè la presenza, i testi sono sicuramente accessibili al pubblico, ma risentono di una patina letteraria. Ancora il collegamento con la psicoanalisi, incontro favorito dal fatto che Trieste fosse stata sotto il dominio dell'impero asburgico, e quindi questo ha favorito un collegamento diretto tra Vienna e Trieste, e la psicoanalisi viene appunto accolta anche nell'ambito dei testi di Saba, dobbiamo tener conto di questo aspetto. Oltre che al modello imperante di D'Annunzio, che segna un elemento di distacco rispetto alla poesia onesta, teniamo conto anche del fatto che in quegli anni sono attivi i poeti vociani che propongono una poetica del frammento, oltre appunto a chi già si accostava a un tipo di poesia oscura, come dicevamo prima. E in questo senso colpisce che rispetto al frammento dei vociani, la poesia di Saba invece abbia un andamento narrativo e una struttura coesa. Nel canzoniere Saba intende ricollegarsi alla maggiore tradizione italiana. Il canzoniere per Antonomasia era stato quello di Petrarca, e in modo simile Saba intende costruire una raccolta poetica che abbia i caratteri dell'unitarietà. E questo fa sì che egli più volte ritorni sulla struttura del canzoniere, che si configura per noi come un'opera divisa in tre volumi e interessata da 25 sezioni, in cui dobbiamo pensare che la struttura, il disegno complessivo, abbia impegnato parecchio Saba, prova ne è il fatto che siano state pubblicate diverse edizioni. Ed è anche da dire che Saba ha contato anche sulla creazione di precisi rimandi, che siano tematici oppure numerici. Vaglia a dire, e sintetizzo quello che propone il nostro testo, è stata la volontà dell'autore quella di fare in modo che i testi si susseguissero nelle 25 sezioni, ma che ci fossero anche delle relazioni interne, o che ciascuna sezione avesse i caratteri dell'unitarietà, o che magari i testi finali di una sezione si collegassero ai testi iniziali di quella successiva. Il curare l'impostazione del canzoniere rende conto del suo andamento narrativo. Ci sono dei nuclei tematici che ricorrono, ma l'impressione che se ne ricava è proprio la volontà di valorizzare, di dare risalto a certi momenti, individuando in essi un significato profondo. Perché la disposizione dei testi garantisce l'andamento narrativo del canzoniere, ma a questo aggiungiamo che di fondo resta, come del resto in ogni poeta, che si rispetti il problema del senso. I testi hanno un andamento narrativo e concorrono a definire un quadro, rappresentano come i tasselli di un mosaico complessivo, che ci permette di identificare nel canzoniere una sorta di romanzo, come appunto voleva l'autore. Quindi mette al centro una sorta di trama che viene portata avanti, che viene sostenuta da rimandi interni, e questo è un segno di forte distacco, lo ribadisco, rispetto alla poesia di quegli anni, in cui conta piuttosto l'idea dell'assoluto e della purezza. Niente di tutto questo. La scelta di Saba è per una poesia onesta e per un'opera che abbia un andamento narrativo.